Nasce da una richiesta e da un desiderio di Elena Bertozzi, figlia di Enrico Bertozzi, la volontà di ricordare il fumettista fondatore della Scuola Chiavarese del Fumetto. Raffaella vernazza è fra coloro che si sono impegnate a realizzare questo evento. Un evento che inaugurerà quando, dove e sarà organizzato in che maniera. L'evento inaugura venerdì 7 luglio alle 18.30 nella Galleria di Y Lab dove la Scuola del Fumetto ha sempre avuto la sua sede negli ultimi anni. Sì, è stata Elena che ha avuto questo desiderio raccolto naturalmente da noi ex studenti e da noi insegnanti di alcuni corsi collaterali alla scuola e con grande piacere, grande affetto naturalmente anche perché l'evento sarà contemporaneo alla consegna dei diplomi che come consuetudine tutti gli anni a fine corso vengono consegnati ai ragazzi in uscita quindi i ragazzi del terzo anno ed era doveroso insomma avere la presenza di Enrico in qualche modo per cui nel corridoio saranno esposte alcune delle tantissime tavole che Enrico lascia e sarà un po' con noi anche con altre con altre cose che gli appartenevano ma per questo bene non spoilerare lasciamo la sorpresa di un po' di scenografia che sarà che accompagnerà questa mostra. Ecco quindi una volontà che è stata richiesta dalla figlia di Enrico Bertozzi e che voi che avete fatto parte della scuola del fumetto come allieve ma oggi professionista e come guardate l'evento scuola del fumetto al di là del fatto che è venuto a mancare Enrico? Non nascondiamo nessuna delle due perché qui siamo in due in questo momento che le difficoltà sono effettive perché comunque raccogliere un'eredità di un certo peso e parlo di peso in senso positivo perché comunque Enrico oltre ad essere tra i cofondatori della scuola comunque ha presentato un punto di riferimento che sarà difficile replicare questo oltre alla professione anche dal punto di vista umano. Però siccome insomma abbiamo attraversato anche noi un po' questi anni siamo stati anche noi tra i tra gli studenti e a volte anche non voglio dire i rifugiati da Enrico però comunque era un bel modo di di avere un consiglio anche da una persona che a modo suo nella sua stranezza aveva le parole giuste nei momenti giusti e quindi ci teniamo tantissimo a fare del nostro per rinnovare per innovare anche che sarà molto importante con nella squadra il più grande numero possibile di ex allievi che sappiano e si ricordino bene quello che era la vecchia scuola. Silvia Marino è una figura portante di quella che è stata la scuola chiavarese del fumetto accompagnato anche negli ultimi anni dell'attività didattica. Un'eredità culturale che va conservata questa Silvia? Assolutamente. Ritengo che la cosa più importante sia avere la capacità di mediare in maniera corretta tra ciò che è stato e ciò che sarà. Ossia portare il più possibile innovazioni da un punto di vista soprattutto strumentale quindi magari introdurre anche nuove tecniche mi riferisco in particolare ad esempio alla colorazione digitale quindi saper usufruire di nuove strumentazioni però sempre nell'ottica di portare avanti la tradizione quindi gli insegnamenti di ciò che è stato in precedenza. Che cosa porterete in questo evento che si inaugura il 7? Porteremo soprattutto direi la presenza di Enrico nel senso fare in modo che ci sia una conclusione di un percorso in cui lui è stato sempre presente e veramente con il massimo impegno. I ragazzi hanno sempre percepito questa totale dedizione da parte di Enrico a quello che non si può semplicisticamente liquidare come un semplice fattore professionale ma anche umano e quindi vorremmo ricreare questa stessa atmosfera calda, accogliente e quindi idealmente abbracciare tutti coloro che hanno fatto parte di questa realtà e che continueranno a farne parte anche per collaborazioni future. Che titolo ha questa mostra? Redini e inchiostro. Perché? Perché direi che riassumendo la sintesi d'altra parte diciamo era uno dei tanti requisiti diciamo che aveva Enrico voglio dire in senso appunto di qualità grafica e quindi direi che riassume in maniera eccellente sia l'aspetto umano che quello professionale. L'aspetto umano legato alle redini chiaramente è quello professionale legato all'inchiostro però appunto tutto ciò che era lui era proprio un condensato di tutte queste parti strettamente unite insieme. cioè lui era un tutt'uno, non si poteva disgiungere la parte umana da quella professionale, era sempre... era lui.